Dov'ai? Dov'è? Buongiorno! Eeeh! E ora te ne vieni? Un mese fa ho fatto l'inaugurazione. Vabbè, lo so hai ragione, però ho avuto da fare. Però... Complimenti. Complimenti da me. Bello, bello, bravo. Sì, ma... Mi chiedo... Cosa c'entri tu con i telefonini? Che volevi far sembra l'artista? Eh sì, però ci ho provato in tutti i movi. Cinema, teatro... L'ultima occasione è stato il circo. Il circo? Eh, bene. E mi sono andato a proporre e mi avevano prospettato di fare l'uomo proiettile. L'uomo proiettile? Lui, non era un lavoro per uno del mio calibro. Perfetto.